Arrivate alle 8 e 30 circa all'aeroporto militare di Capodichino a Napoli le nuove scorte di vaccino anti-covid Pfizer-BioNTech e il furgone del corriere è stato scortato dalle volanti della polizia. La campagna vaccinale in campagna dunque dovrebbe riprendere nelle prossime ore dopo il breve stop inferto dall'esaurimento delle fiale. Ieri il governatore De Luca aveva lanciato l'allarme chiedendo al governo di inviare al più presto altri vaccini e personale sanitario. Il commissario Domenico Arcuri aveva assicurato nel pomeriggio l'invio del nuovo carico entro oggi. Una spedizione di 34.000 dosi di vaccino che saranno consegnate in tre fasi presso i 27 hub della campagna. La nostra regione ha fatto registrare un primato nazionale per la vaccinazione anti-covid. Oltre 60.000 tra medici e operatori sanitari già immunizzati. Si riprende anche alla mostra d'oltremare. Dopo le code e le polemiche dei giorni scorsi l'ASL ha creato un sistema di prenotazione che consentirà di impedire gli assembramenti. Da segnalare anche 41 allontanamenti di intrusi che non rientravano nelle categorie previste in questa fase. Tra loro anche un noto avvocato amministrativista di Napoli cacciato direttamente dal manager Verdoliva. Intanto resta stabile la curva dei contagi registrati, 1.253 nuovi casi su 15.411 tamponi. Resta chiuso il covid center di Ponticelli dopo il crollo nel parcheggio. La procura accelera. Dopo aver sentito i dirigenti delle ASL cominciano gli approfondimenti sulle ditte intervenute per i lavori. Due le ipotesi più accreditate, le piogge copiose o un'esplosione della rete idrica nel sottosuolo.